Bene, buongiorno, riprendiamo da dove avevamo lasciato la volta scorsa, vi ricordo che ci stiamo procurando un'architettura di riferimento della quale abbiamo descritto l'instruction set nell'ultima lezione. Riprendo questa slide che è quella che avevamo visto la volta scorsa e vi ricordo che avevamo definito quattro tipi di istruzioni di un instruction set di tipo RISC con istruzioni a 32 bit con pochi formati, vedete, soltanto tre formati per quattro tipologie di istruzioni. Il formato più semplice che ha soltanto due campi è quello del salto non condizionato in cui l'unico parametro è la destinazione del salto, mentre il primo campo di ogni istruzione è sempre l'opcode. L'opcode è sempre a 5 bit, quindi è estremamente regolare. Il formato successivo che ha invece tre parametri sono i salti condizionati e gli accessi alla memoria, che hanno, vedete, questi tre parametri che nel caso di salti condizionati rappresentano i due registri tra i quali effettuare il confronto, tipo di confronto che invece è specificato nell'opcode e questo che rappresenta la destinazione del salto che è specificato come offset e non più in termini assoluti perché abbiamo dovuto sacrificare 10 bit per esprimere gli indici dei registri tra i quali effettuare il confronto. L'accesso alla memoria ha ancora un offset che specifica questa volta l'indirizzo nel quale andare a leggere o scrivere i dati. Questo offset è specificato non più rispetto al program counter, come succede per il salto condizionato, ma rispetto a un indirizzo di base che è dentro un registro di cui qua viene fornito l'indice. Mentre l'ulteriore campo è ancora un registro che, a seconda del caso che si tratti di un'operazione di lettura o di un'operazione di scrittura, rappresenterà un registro sorgente, scusate, un registro destinazione e un registro sorgente rispettivamente. Infine, il formato più complesso che ha quattro parametri è quello delle operazioni aritmetico-logiche, dove vi ricordo che è stata fatta una scelta interessante a mio avviso, perché non ovvia, quella di specificare il tipo di operazione che l'unità aritmetico-logica deve svolgere, non nell'OPCODE, ma in un campo dedicato. In questo modo, a tutti gli effetti, questo che viene chiamato FALU, cioè la funzione che l'ALU deve svolgere, rappresenta in realtà parte del codice operazione, perché stiamo dicendo che cosa fare e fa cose diverse, ma spezzarlo in due parti. Uno che è un OPCODE coerente con il formato degli altri e l'altro invece che appare come un parametro, è utile perché il OPCODE è quello che verrà processato dalla Control Unit, mentre questo campo, esattamente così com'è, senza nessuna decodifica, verrà passato alla fase di esecuzione, perché tutto ciò che serve a generare i segnali di controllo è già contenuto qua, mentre questo serve solo a, diciamo, configurare la unità di elaborazione in modo tale che svolga l'elaborazione giusta. Ma tutto il flusso dei dati tra i registri dipenderà soltanto dall'OPCODE e dalla specifica dei registri sorgenti e destinazione, che è fatta qua. I tre campi sono per l'appunto due registri sorgenti e uno destinazione, come tutte le operazioni a due operandi richiedono. Tutto qua. Quindi siamo nell'ambito di un'architettura reg-reg di tipo RISC. A questo punto vediamo nelle prossime slide come implementare un'architettura che rispetti questa specifica e quindi che implementi questa instruction set. Quello che vedete in questa slide, che commento con, diciamo, un minimo di dettaglio in più sugli elementi che la compongono, è una rappresentazione della pipeline, così come l'avevamo già vista, in cui abbiamo qua la fase che abbiamo chiamato di instruction fetch, poi la fase instruction decode, execute, memory access e write back. Quello che vedete rappresentato con delle barre verticali sono le batterie di registri che servono a trasferire i risultati di una fase alla fase successiva nel ciclo di clock successivo. Quindi lo schema più astratto di quello che vi sto mostrando ora, che dovete avere in mente, è quello nel quale noi avevamo le cinque fasi separate da dei registri, che stava semplicemente ad indicare che era una implementazione a multiplo ciclo di tutte le funzioni che occorreva svolgere per processare un'istruzione. Le cinque fasi che avevamo individuato erano instruction fetch, instruction decode, execute, memory access, write back, e a ciascuna di queste quindi corrispondono delle risorse hardware che se ne fanno carico e poi dei registri che campionano i risultati e li rendono disponibili nel ciclo di clock successivo perché venga attuata la fase successiva. Quindi adesso quello che vediamo è una rappresentazione a blocchi di quali sono le risorse coinvolte in ciascuna fase. Allora, questa rappresentazione a blocchi delle risorse coinvolte la troviamo qua e vi mostro anche che questo rappresentato in viola è il register file che viene rappresentato due volte semplicemente per indicare che anche qui è chiamato in causa. ma in realtà quando lo rappresento qui, diciamo, lo rappresento in modo diverso perché o sta qui o sta qui cioè è la stessa risorsa, bene? Quindi questo è soltanto una rappresentazione della fase nella quale questo registro è chiamato in causa questo register file è chiamato in causa. Quindi siccome è chiamato in causa due volte, una volta per fare l'operant fetch e una volta per fare il write back qua lo troviamo rappresentato due volte, ma è bene ricordarci che è la stessa risorsa e nelle prossime slide questo scomparirà, cioè faremo riferimento a questo con dei segnali che torneranno indietro quando necessario. L'altra cosa che vi mostro perché è una scelta, diciamo, architetturale non banale è questa che nel... allora questi registri qua, ve lo dico io perché da lì non potete vederlo questi registri qua hanno delle ripartizioni e dei nomi perché questi registri non sono registri generici ma sono registri destinati a svolgere un ruolo specifico all'interno della CPU. Quindi richiamando alla vostra memoria quella nomenclatura di registri interni speciali che vi avevo fatto vedere in una delle prime slide quando avevo introdotto l'architettura di Von Neumann qua troviamo l'instruction register perché l'instruction register è quello in cui viene caricata l'istruzione durante la fase di instruction fetch e che servirà da input alla control unit nella fase di decodifica. Quindi qua ci troviamo tutta l'istruzione, quindi vuol dire che questo registro per l'architettura che stiamo costruendo sarà un registro a 32 bit che pari pari avrà all'interno i 32 bit dell'istruzione che stiamo procedendo. Qua invece troviamo il program counter incrementato di 1, cioè questo a che cosa serve questo registro qua? Serve a tener traccia del program counter perché questo possa essere manipolato per essere incrementato di 1 nel caso in cui non ci siano salti per passare all'istruzione successiva. L'incremento di 1 in realtà corrisponde ad un incremento di 4 se immaginiamo di aggiungere i due zeri in fondo, non vi ricordate? Mentre nel caso in cui si tratti di salti il program counter dovrà essere aggiornato comunque partendo dal suo valore precedente nel caso in cui il salto sia espresso come offset e quindi servirà comunque un'elaborazione che sommi al program counter l'offset per determinare la destinazione del salto. L'altra cosa che è una scelta vi dicevo progettuale non ovvia è che la control unit così come qua è rappresentata non è né la soluzione microprogrammata né la soluzione a logica sparsa della finite state machine che vi avevo mostrato nella descrizione generale delle architetture dei microprocessori. Quello che vi sto proponendo qua invece è un'architettura che fa una cosa molto semplice siccome questo è sempre suddiviso in 5 fasi, che cosa fa questa? Guardando qual è l'opcode e quindi sulla base della tipologia di istruzione da eseguire in logica combinatoria prepara subito tutti i segnali di controllo che dovranno essere utilizzati in diverse fasi e li mette in diciamo pezzetti diversi di questa batteria di registri. Quindi qua ci saranno i segnali di controllo per la fase di esecuzione, qua quelli per la fase di memory access, qua quelli per la fase di writeback. Dopodiché che cosa fanno? Guardate, questi vengono capionati qua e resi subito disponibili in questa fase. Questi altri invece si propagano in modo tale che siano disponibili dopo due cicli di clock. Questi si propagano attraverso tre registri in cascata, così diventano attuali dopo tre cicli di clock. Quindi anche essere questa una macchina a stati finiti che sputa fuori segnali di controllo in tre cicli di clock diversi, fa tutto subito e rende disponibili però subito tutti i segnali di controllo per i restanti cicli di clock, ma grazie a questa cascata di registri questi segnali arrivano al ciclo di clock giusto. Questa scelta è una scelta che diciamo rende questa effettivamente una macchina a stati finiti. Quindi questa diventa una macchina a stati finiti insieme a questi registri in cascata. Ma la scelta è particolarmente furba perché volendolo usare in pipelining questo, in questo modo la macchina a stati finiti funziona anche lei in pipelining. Cioè non appena la control unit ha elaborato tutti i segnali di controllo per un'istruzione, può subito elaborare tutti i segnali di controllo per l'istruzione successiva. Dopodiché questi segnali si propagheranno come delle onde arrivando ai cicli di clock giusti riferiti all'istruzione che in quel momento è in quella fase. Ok? Se invece la macchina a stati finiti fosse stata tradizionale, monolitica, e avesse dovuto impiegare i tre cicli di clock restanti per produrre i segnali di controllo per le restanti fasi, sarebbe stata lei il collo di bottiglia. Perché fin tanto che era dedicata, quella macchina a stati finiti, a controllare il resto dell'esecuzione di quell'istruzione, non si poteva passare all'esecuzione di qualcosa d'altro. Non si poteva fare nemmeno la decodifica di un'altra istruzione. Chiaro? Quindi questa scelta è una scelta non ovvia che è ben rappresentata da questa slide così schematica. Quindi abbiamo in pratica isolato qua, in questa fase, tutta la parte di elaborazione della macchina a stati finiti e lasciato che questi segnali poi si propagassero per diventare attuali nei cicli di clock in cui serviranno. Allora, partiamo da un'operazione aritmetico-logica. Adesso vedete che questo è diventato ancora più concreto di quanto non lo fosse la rappresentazione precedente, perché qui vi mostravo solo le cose utili a darvi le prime spiegazioni che vi ho dato, ma dove ancora c'erano queste rappresentazioni simboliche, diciamo ripetute più volte, dei componenti che sarebbero stati chiamati in causa più di una volta. Qua invece vediamo le cose essenziali, solo quelle chiamate in causa nelle operazioni aritmetico-logiche, ma vedete che c'è un maggior realismo perché adesso vediamo tutti i campi della istruzione così come li abbiamo definiti nel nostro instruction set, per cui questa che è una istruzione aritmetico-logica ha qui l'opcode, qua i due registri sorgente, gli indici dei due registri sorgente, qui l'indice del registro destinazione e qua il codice da passare alla ALU, quindi questa è l'istruzione. Qua vedete anche la logica di aggiornamento del program counter e questo vi dà un livello di dettaglio che vi mostra un'ulteriore scelta architetturale, cioè per fare questo incremento di 4 non viene usata l'unità aritmetico-logica, ma viene a questo dedicato a un sommatore, quindi vuol dire che benché la ALU sappia fare le somme, all'interno del nostro processore abbiamo un altro sommatore che si incarica solo di incrementare il program counter. Questo è molto importante perché perché se usassimo la ALU per incrementare il program counter la ALU sarebbe sempre impegnata e ancora una volta diventerebbe una risorsa condivisa tra due fasi e non potremmo far funzionare in pipelining l'architettura. Vi ricordate che il funzionamento in pipelining è alternativo alla condivisione di risorse. Allora io qua sto rappresentando i cicli di clock e lo faccio semplicemente per farvi vedere, per tenerci sotto mano diciamo così lo schema del pipelining instruction fetch, instruction decode, execute, reaccess, writeback. se io faccio qua instruction fetch, instruction decode, execute, memory access, writeback e ancora e così via. Ce ne sta ancora un quinto per arrivare al pieno regime della pipeline ma quello che volevo mettere in evidenza che cos'è? E' che la fase di esecuzione e la fase di instruction fetch sarebbero conflittuali se dovessero utilizzare le stesse risorse perché questo rappresenta ciò che avviene nello stesso ciclo di clock. Quindi è essenziale che tutto questo sia disaccoppiato. Per disaccoppiarlo c'è bisogno di replicare la risorsa che serve ad entrambe che è proprio il sommatore. Dopodiché passiamo alla fase di decodifica. Allora la fase di decodifica che cosa fa? Vedete l'opcode va in ingresso alla control unit che a questo punto è un blocco di logica combinatoria che genera segnali di controllo per le fasi restanti. Qui viene messo in evidenza che non genera niente per la fase di memory access perché le operazioni aritmetico-logiche essendo un'architettura regreg non chiamano in causa per niente la memoria. A questo punto che cosa succede? Guardiamo come la fase di decodifica effettua la seconda cosa che a lei è affidata perché vi ricordo che nella fase di decodifica non ci limitiamo a decodificare l'istruzione ma procuriamo anche gli operandi che poi serviranno nella fase di esecuzione. Quindi è qua che è chiamato in causa il register file e il register file immaginiamo che abbia tre porte. Quindi se ricordate ancora una delle prime slide che vi ho mostrato in cui vi mostravo che internamente c'erano i registri c'era la ALU e c'erano tre bus che consentivano alla ALU di interfacciarsi ai registri direttamente questo è un po' quello schema lì nel senso che il register file che qua viene rappresentato in modo schematico senza espandere i registri che contiene che vi ricordo sono 32 in questa architettura di riferimento perché sono indicizzati con 5 bit quindi 2 alla quinta 32 allora questo register file ha tre porte cioè contemporaneamente riesce a recuperare entrambi gli operandi e quindi riceve due indirizzi che sono questi indici di registri sorgente RS1 e RS2 e produce i due operandi in uscita che noi andiamo a campionare qua in questi registri questi registri li renderanno disponibili alla ALU nel ciclo di clock successivo insieme a che cosa insieme ai segnali di controllo per la ALU che dicono alla ALU guarda tocca a te e devi fare un'operazione aritmetico-logica ma quale operazione non glielo dice la control unit vedete e qua l'utilità di quell'accorgimento che vi dicevo prima questo campo che si chiama F-ALU cioè la funzione che svolge la ALU viene direttamente propagato esattamente com'è qui questo registro qua c'è scritto IMM cosa vuol dire vuol dire che è qualcosa di immediato nel gergo viene chiamato immediato tutto ciò che è già scritto nell'istruzione quindi se noi dicessimo che sul registro destinazione vogliamo scrivere 3 più 4 3 e 4 sarebbero operandi immediati perché sono scritti direttamente lì per contro normalmente come in questo caso che cosa diciamo che vogliamo scrivere il risultato della somma del contenuto di due registri quindi quelli non sono immediati perché diciamo gli indici dei registri dei quali andare a recuperare i dati se invece un dato è scritto direttamente come numero nel codice dell'istruzione ecco che allora lo riteniamo immediato questo è immediato cioè non richiede nessun tipo di decodifica e pertanto viene passato direttamente alla ALU come ulteriore controllo così la ALU sa cosa fare e produce il risultato l'altra cosa che vi faccio notare è questa che la control unit ha prodotto non soltanto i controlli per la fase di esecuzione ma anche i controlli per la fase di writeback e vedete che questi quindi si propagano in uno due e tre cicli di clock nel terzo ciclo di clock arrivano effettivamente nella fase di writeback e non rappresentando di nuovo qua il register file devono essere portati al register file ma al register file deve essere portato anche un'altra cosa che è l'indice del registro destinazione che in realtà noi ci troviamo qua perché il registro destinazione è un campo della nostra istruzione quindi la cosa interessante è che il registro destinazione anche lui ha bisogno di essere mantenuto per tutti i cicli di clock perché noi l'abbiamo letto qui ma ci servirà qua e allora guardate anche questo seguo col dito il percorso viene campionato qua poi ricampionato qua poi ricampionato qua e finalmente diventa un indirizzo per il register file ok quindi quelli che prima erano gli indici dei registri sorgente che servivano subito non hanno avuto bisogno di essere propagati li abbiamo subito consumati in questo ciclo di clock quelli che invece dovranno essere le informazioni che dovranno essere consumate dopo tre cicli di clock e che comunque sono contenute nell'istruzione hanno bisogno di essere propagate attraverso altri tre registri tutto qua mentre nel frattempo l'Alu ha prodotto un dato che è il risultato questo risultato non deve essere scritto in memoria perché operiamo solo su registri e scriviamo il risultato nel register file e siccome la fase di write back è questa anche lui ha bisogno di propagarsi per due cicli di clock quindi questo pezzetto di questa batteria di registri lo ritroviamo pari pari e diventa anche questa una cascata di registri che rendono disponibile il dato quando dovrà essere scritto nel register file il segnale di controllo per il write back che arriva alla cioè i segnali di controllo sono in pratica al register file se è chiamato in causa e se sì se deve fare una lettura o una scrittura quindi questo dice semplicemente che ci sarà un dato da scrivere quindi questo segnale di controllo che era stato generato fin da a presente che essendo un'operazione aritmetico-logica che produce un risultato avrà bisogno della fase di write back e quindi è un comando di scrittura per il register file scrittura di cosa e dove di cosa e questo dove quindi questo qua è il modo in cui vengono risolte le metico-logiche se avete domande su questo ok allora torno un attimo indietro per il passaggio e per anche per svegliare il solito videoproiettore che se no mi si addormenta si addormenta comunque per quanto io vado avanti e indietro ok allora dicevo vi faccio notare il passaggio vedete che cosa cambia allora il formato dell'istruzione si semplifica perché abbiamo qui avevamo quattro campi qui abbiamo tre campi la cosa che succede è che compare una rappresentazione della memoria qua dentro perché questa volta c'è il write back c'è il write back scusate stiamo facendo il caso non solo di un generico accesso alla memoria ma di un accesso in lettura quindi abbiamo sia la fase di accesso alla memoria sia la fase di write back perché ciò che leggiamo in memoria lo andremo a scrivere in un registro allora guardiamo come è fatto il codice dell'istruzione abbiamo il registro di base registro che che rappresenta l'offset e poi abbiamo il registro sorgente destinazione allora come funziona tutto questo funziona così noi abbiamo che dal registro di base che è qua quindi questo viene utilizzato come indice per il register file andiamo a prelevare un dato ok perché preleviamo il dato dal registro di base perché il registro di base è quello che contiene l'indirizzo a cui va sommato l'offset per trovare il riferimento alla memoria quindi stiamo utilizzando una modalità di indirizzamento che si chiama indiretta vi ricordate quindi questa modalità indiretta prende l'indirizzo da un registro e quindi dobbiamo leggere dal register file e a questo punto questo che prima era un operando per la ALU adesso contiene la base dell'indirizzo ma c'è anche un operando immediato che infatti mettiamo qua nel campo in cui scriviamo gli operandi immediati che rappresenta l'offset cioè rappresenta quanto ci scosteremo rispetto a quella base a questo punto a sommare questi due è la ALU questa volta la usiamo e la possiamo usare perché nel processing di un'operazione di accesso alla memoria non si fa elaborazione se non quella dell'indirizzo quindi la ALU è disponibile per calcolare l'indirizzo che dovrà essere utilizzato nella fase di memory access così colleghiamo grazie ai comandi che la control unit avrà dato avendo consapevolezza di che o code ha preso in carico portiamo agli ingressi della ALU questi due e li sommiamo questa volta il risultato del calcolo non sarà qualcosa che dovrà essere scritto in un registro ma è invece l'indirizzo della memoria quindi in questo modo noi abbiamo calcolato l'indirizzo i comandi per la fase di memory access diranno al control bus che la memoria è chiamata in causa in un'operazione di lettura in questo caso e grazie all'indirizzo che verrà asserito sul bus degli indirizzi quindi io qua rappresento la memoria simbolicamente ma la memoria nell'architettura di von Neumann non è dentro il processore la memoria se ne sta da una parte ed è collegata attraverso il bus quindi questo che dal punto di vista logico è l'indirizzamento della memoria vuol dire asserire l'indirizzo sul bus degli indirizzi quindi tecnicamente vuol dire andarlo a scrivere sul memory address register che era uno dei registri speciali dentro la CPU nel momento in cui asseriamo questo e sul bus di controllo diciamo adesso leggo che cosa succede che la memoria si sente chiamata in causa e rende sul bus dei dati scusate sul bus dei dati il dato contenuto all'indirizzo richiesto e questo dato che viene portato all'interno della CPU nel memory data register viene trasferito o se volete questo possiamo immaginare che sia direttamente il memory data register però alla fine ce lo ritroviamo qua cioè ce lo ritroviamo in questa batteria di registri che separa la fase di accesso alla memoria da quella di writeback perché a questo punto il writeback avviene esattamente come avveniva prima ma prendendo questo anziché un risultato dell'alu vedete non è questo che prendiamo ma è questo a dire cosa prendere è ovviamente il segnale di controllo generato opportunamente dalla control unit e per il resto il writeback funziona come funzionava prima ok adesso vi chiedo di nuovo di prestare attenzione al cambio di slide perché guardate quali sono i segnali e le risorse chiamate in causa qua la prossima cosa che vi mostro è invece la scrittura in memoria allora secondo voi cosa avrà di diverso la scrittura in memoria allora se noi scriviamo in memoria cosa potrà esserci di diverso allora guardate ve lo anticipo su questa slide questa questa che cosa avrà di diverso allora va a leggere dove scrive allora anziché va abbastanza bene diciamo anziché produrre un dato dovrà riceverlo il dato quindi questa volta che cosa succederà che avremo qualcosa da prendere e da andare a scrivere e invece non avremo questo ma non avendo questo non avremo nemmeno questo quindi non ci sarà la fase di readback ok e ci sarà invece l'esigenza di andare a leggere da qua anche qualcos'altro quindi questa volta nella fase di operand fetch non soltanto ci procuriamo la base dell'indirizzo ma ci dobbiamo anche procurare il dato che poi andrà scritto e quindi aspettiamoci che ci sia qualcosa che si propaga da qua e finisce qua dentro ok quindi vedete è questo che una volta che ci siamo procurati uno schema di massima poi ragionandoci ci consente di creare un'architettura e vi ricordo che questa macro architettura che ancora è relativamente astratta che io vi sto mostrando ve la mostro a questo livello e non scenderò a livelli di maggior dettaglio perché? perché i livelli di maggior dettaglio sono quelli che hanno riguardato la prima parte del corso e noi adesso invece da qui dobbiamo muoverci verso l'alto quindi questo è il punto di contatto tra la progettazione a livello RT e l'architettura degli elaboratori che poi vedremo da qui in su fino ad arrivare al software perché se io adesso rientrassi in dettaglio di questi rifarei cose che sapete già fare cioè adesso abbiamo tutti gli ingredienti per farlo quindi stiamo facendo un progetto top down e per spingerci dentro a ciascuno di questi componenti sapremmo farlo quindi potremmo ritagliare questo e dire bene visto che dobbiamo far questo do prendo questo come una specifica di un progetto a livello logico e lo realizzo a livello logico o a livello RT ok? e questo lo potremmo fare per ciascuno di questi componenti l'unico dentro cui entreremo pesantemente è questo perché invece questo non lo sappiamo fare cioè la memoria non l'abbiamo ancora vista e la memoria non è semplicemente una batteria di registri vedremo che c'è motivo per creare delle architetture specifiche per le memorie e quelle le vedremo invece in dettaglio allora a questo punto il cambio della slide avviene davvero passo alla slide successiva e come vi avevo anticipato non abbiamo più niente qua vedete che si semplificano molto anche i segnali di controllo perché non abbiamo più questo ritorno al register file ma abbiamo popolato anche questi registri perché? perché da qua leggiamo contemporaneamente il registro di base per l'indirizzo e il registro di sorgente destinazione che in questo caso è un registro sorgente che fornisce il dato il dato che si propaga per essere scritto nella memoria quindi questo non ritengo che meriti ulteriori considerazioni perché l'abbiamo descritto per differenza rispetto all'operazione di lettura questa ribadisco è una scrittura in memoria e penso sia sufficientemente chiaro alla luce di quanto abbiamo già detto andiamo a vedere come si fanno i salti non condizionati qui si è semplificato tutto enormemente perché il salto non condizionato è l'operazione più semplice che possiamo fare in realtà ce n'è un'altra ancora più semplice che non ho messo nell'instruction set e invece serve che è il no operation allora no operation è sempre un'istruzione indispensabile perché un processore per non fare niente ha bisogno che qualcuno glielo dica ok cioè un processore legge istruzioni e le esegue legge istruzioni e le esegue se non deve far niente o lo spegniamo o gli diciamo di non far niente quindi serve un'istruzione che glielo dica che non cosa vuol dire non far niente non vuol dire risparmiare badate bene cioè un processore che non faccia niente non è che non consuma energia non consuma energia se si adottano degli accorgimenti di dynamic power management quindi di controllo dinamico del consumo di potenza che lo mettono in uno stato di torpore o di sonno profondo o di ibernazione che vuol dire cosa che smette di fare il fetch e l'esecuzione allora così smette di consumare ma fin tanto che fa il fetch di un'istruzione l'istruzione è un no operation subito dopo farà il fetch di un'altra istruzione che sarà ancora un no operation o se noi facciamo un loop di no operation cosa vuol dire che il loop comporta salti controlli aggiornamenti di contatori o cose di questo genere quindi comunque lui consuma energia e calcoli ma il no operation a cosa serve davvero a non fargli fare danni cioè il no operation è come dire tu vai avanti ma vai avanti senza compromettere il tuo stato interno lo stato dei tuoi registri lo stato della memoria le variabili mentre se facesse cose arbitrarie quando non ci è utile rischierebbe di alterare lo stato e quindi quando ci torna ad essere utile si potrebbe trovare in uno stato inconsistente o diverso da quello che noi ci aspettiamo e che il software propriamente scritto ed eseguito invece prevedeva quindi il non far niente vuol dire non fare danni e per non fare danni c'è bisogno di un'istruzione che non abbia alcun effetto sullo stato interno del processore allora andiamo avanti dicevamo salti non condizionati quindi sono a parte il no operation le istruzioni più semplici ed è evidente evidente nel loro formato e è evidente anche nell'architettura e nei componenti chiamati in causa l'unico chiamato in causa è la control unit che però fa una cosa molto importante perché vedete che a questo ho aggiunto un multiplexer prima qua avevo indicato che c'era il sommatore che aggiornava il program counter e basta adesso ci serve un multiplexer perché perché il program counter viene automaticamente aggiornato quando appena viene fatto il fetch quindi viene aggiornato subito e questo aggiornamento comporta l'aumento di 4 che concettualmente vuol dire essere pronti a leggere l'istruzione immediatamente successiva ma le istruzioni immediatamente successiva se la precedente era un salto da fare non è quella giusta allora c'è bisogno che quando la control unit si accorge del fatto che quella era un'istruzione di salto vada a sovrascrivere il valore che nel frattempo era stato calcolato nel program counter e come lo sovrascrive vedete prendendo l'operando immediato che indica il nuovo indirizzo da cui prelevare l'istruzione successiva e scrivendolo nel program counter lo deve scrivere nel program counter perché è il program counter che poi piloterà il bus degli indirizzi per andare a leggere in memoria quindi anche questo ve l'ho detto dalla prima slide che vi ho mostrato cioè il program counter dice dove andare a leggere in memoria quindi se noi vogliamo andare a leggere in un indirizzo diverso da quello successivo dobbiamo necessariamente andare a sovrascrivere il program counter ok i salti condizionati invece complicano di nuovo un pochino l'architettura e perché la complicano perché devono verificare la condizione e subordinare alla verifica della condizione il salto quindi a maggior ragione c'è bisogno di un multiplexer che questa volta non sarà controllato semplicemente dall'informazione è un salto non è un salto ma avrà bisogno di un ulteriore criterio che dica il salto va fatto il salto non va fatto ok quindi non basta limitarsi alla decodifica e accorgersi che c'è un'istruzione di salto ma bisogna andare avanti verificare la condizione e solo se la condizione è verificata andare a controllare il multiplexer dicendogli non prendere questo ma prendi questo dopodiché ci sono altre complicazioni e guardate guardate qua che cosa succede abbiamo bisogno di un terzo sommatore sommato questo off sommato al program counter per trovare l'indirizzo di destinazione perché vi ricordate che in questo formato non andiamo a esprimere in termini del salto ma qua veniva espressa come offset rispetto al program counter allora il program counter è stato incrementato di 4 e il program counter incrementato di 4 costituisce per noi la base alla quale dobbiamo sommare questo è la vera destinazione del salto e poi quello che useremo per sovrascrivere il program counter qualora il salto debba essere effettuato nel frattempo abbiamo preso da qua due il contenuto di due registri che sono due registri sui quali possiamo effettuare il tipo di confronto ce lo dice il controllo generato dalla contro per la fase di esecuzione può essere un confronto di uguaglianza di minoranza a seconda dei casi e con questa informazione che dice che tipo di confronto è noi andiamo a scegliere uno dei flag cioè delle informazioni che la CPU produce che la ALU produce output quando svolge un'operazione allora i controlli i confronti scusate in che cosa si risolvono tipicamente sono delle sottrazioni cioè se io devo confrontare due numeri e decidere qual è il maggiore faccio una sottrazione e guardo il segno o guardo l'uguaglianza con zero quindi se il risultato è nullo la CPU alza un flag la CPU torno a dire la ALU alza un flag che dice il risultato è zero se il risultato è positivo o negativo lo capisco invece dal bit di segno del risultato quindi questi sono due flag cioè sono due informazioni binarie e allora io qua avrò un multiplexer a un bit che se avevo bisogno di sapere se il risultato era nullo cioè se i due erano uguali prenderà il flag di zero se invece avevo bisogno di sapere qual era maggiore dei due prende il bit di segno e questi li usa per pilotare quest'altro multiplexer la batteria è quasi scarica è spenta la ciabatta giusto eccoci e allora dicevo li uso per pilotare l'ulteriore multiplexer che a questo punto ci consente di prelevare da qua il nuovo valore del program counter e quindi il nuovo indirizzo da cui andare a leggere le istruzioni ok quindi questo è tutto quello che a noi serve per realizzare una CPU di cui sappiamo tutto diciamo abbiamo deciso tutto chiaro quindi vi ripeto che cosa abbiamo fatto noi ci siamo procurati un instruction set minimo questo instruction set minimo l'abbiamo implementato su un'architettura che rispetta la suddivisione in cinque fasi che anche questa era stata una scelta di progetto scelta di progetto abbastanza generale e comune a diverse architetture ma comunque arbitraria perché ribadisco anche la suddivisione in cinque fasi l'avremmo potuta fare in modo diverso ci sono ad esempio delle tipologie di processori che non adottano un'architettura di tipo reg reg che scambiano la fase di memory access con la fase di esecuzione in modo tale da poter acquisire un dato e processarlo mentre nella nostra architettura la fase di esecuzione precede quella di memory access per calcolare l'indirizzo quindi vedete ci sono a seconda delle diciamo applicazioni per cui i processori vengono concepiti ci sono delle scelte architetturali che hanno più o meno senso in un'architettura risk reg reg questa ha senz'altro più senso di quella inversa quella inversa dov'è che serve serve ad esempio nei digital signal processor quindi i processori destinati al processamento di segnali ad esempio per fare processamento di immagini processamento di audio perché questi che cosa devono fare devono prendere uno stream di ingresso devono ricevere continuamente dati e produrre il più in fretta possibile i dati elaborati immaginatevi un processore che debba svolgere la funzione di un filtro allora un filtro che cosa fa immaginatevi un filtro audio un filtro audio acquisisce campioni del file audio o ancora prima che di file si tratti campioni campionati da un convertitore analogico digitale e quindi tanti diciamo tante parole che rappresentano dei valori della traccia audio a cui devono applicare una trasformazione per produrre il valore filtrato il valore elaborato quindi vuol dire che campionano un dato lo elaborano e lo sputano fuori campionano un dato lo elaborano e lo sputano fuori allora in questo caso poter acquisire il dato e subito fargli un'elaborazione è molto più furbo che doverlo prima caricare in un registro interno e poi poterlo processare solo con un'istruzione ulteriore questo consente un'architettura ribaltata di avere istruzioni che operino direttamente sulla memoria e quindi di avere concettualmente un'architettura di tipo memreg ok bene allora con questo si conclude la lezione di oggi e si conclude anche la l'occhiata che diamo all'architettura interna di un microprocessore perché dalla prossima volta che cosa faremo quello che faremo sarà vedere come da questo momento possiamo provare a concepire del software e a preoccuparci di come questo software venga eseguito dalla nostra architettura e quindi proveremo a chiederci che cosa succede all'interno dell'architettura nel momento in cui non si limita ad eseguire una singola istruzione alla volta come qua stiamo facendo ma nel momento in cui ha da eseguire un segmento di codice composto da tante istruzioni di natura potenzialmente diversa che vengono eseguite in pipelining e che quindi impegnano contemporaneamente la CPU e cercheremo di capire se questo crea conflitti e cercheremo di risolverli e così via ok benissimo